Flannery Cup, seconda edizione, girone del venerdì, ultimo scontro, si affrontano la squadra capitana da Ungaro contro la squadra capitana da Schiattarella, l'FC a Bulletto. Risultato, fermo sul 9 a 1. Ricapitoliamo le reti, 4 di Schiattarella, 1 di Potenza, 1 di Esposito, 2 di Lautiero e l'unico gol dei PLP White, squadra di Lufa Ungaro, è stato siglato da Vaccaro, abbiamo appena visto un'azione da calcio di punizione d'aria dell'FC a Bulletto, ha sparato alle stelle, ma è giunta occasione da rete. Si riparte da Variale, estremo difensore, l'FC a Bulletto, scarica su Ugo Potenza, che prova a far risalire i suoi, Lautiero, gran classe stasera. Prova a galoppare lungo la tua sinistra, la scarica al centro per Ugo Potenza, che liscia un cioccolatino confezionato da Lautiero. Ugo, la figuraccia l'abbiamo ripresa, la figuraccia è Ugo. Ripresa, sei live. Andiamo a Esposito, guadagnare una buona palla, un po' stesso palla, centro campo. Si complica un po' la vita, poi tributa l'avversario. Allarga su Lautiero, Lautiero di gran carriera. Intenta di far salire i suoi in profondità per Schiattarella. Dietro per Ugo Potenza, che scarica al centro per Livio Barone. Non lo ha da fare, possono ripartire PLP White. Daria stoppa il pallone, salta l'avversario. Si incunia, lancia la palla nello spazio per Schiattarella, che deve recuperare un po' di metri. Finge, gioco di gambe, scarica per Esposito. Velo, poi Lautiero, scarica dietro per Potenza. Buono il fraseggio della Bulletti in questo frangente di gioco. Lautiero porta palla, supera il centro campo, scarica di tacco per Daria. Ugo Potenza stoppa il pallone. Poi prova la conclusione, elegante, di poco a lato. Bella l'idea, peccato per la conclusione. Si riparte da Izzo, estremo difensore del PLP White, Luca Ungaro. Luca Ungaro si invola, lancia la palla nello spazio. La palla rimane a centro campo, ancora Luca Ungaro, Luca Ungaro. Non si riesce a superare il centro campo, detenuto bene dall'FCA Bulletti. Livio Barone, inganna una besta per scarica dietro per Schiattarella, che prova la conclusione. Da fuori aria, la palla finisce di un palmo all'ato. Può ripartire PLP White. Palla troppo lunga per tutti. Si riparte da Variale, che non immobilizza neanche il pallone d'aria. E lo spazio per Potenza. Cerca l'1-2, Potenza parte in dribbling. Schiattarella lo serve, poi chiude Luca Ungaro. Ottima la diagonale difensiva di quest'ultimo. Palla nello spazio, l'autore si inserisce, stoppa il pallone. Può far ripartire sui, allarga per Schiattarella, che è una frateria davanti. Prova la conclusione, elegante! Becca lo spigolo! Bellissimo il gol confezionato da Schiattarella. Veramente bello. Complimenti a Schiattarella. La sera quinta rete personale. Dobbiamo fare qualche viaggio. Schiattarella, agenzia di viaggi. Non è alto. Facciamo anche il Marchettone. Facciamo anche un po' di pubblicità a Marco Schiattarella. Si riparte da... Rimessa laterale. Esposito. Barone. Può ripartire il PLP White. Palla nello spazio. Troppo lunga. Troppo lunga. Sciupa sotto porta il PLP White. Daria. Va a Riale. Potenza nello spazio per Esposito. Sky che è indietro per Daria. Allarga per Potenza. E ha già guadagnato qualche metro. Poi è costretto a ritornare indietro a Potenza. Si invola lungo l'auto di sinistra. Va al centro per Schiattarella. Schiattarella. Schiattarella combatte. Poi guadagna una rimessa laterale. Ugo Potenza al centro per Schiattarella. Veramente un macigno lì davanti. Viene messo giù. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Dominal e feccia a bulletto. Fino a questo momento. 9 a 1. C'è la possibilità di siglare il 10 a 1. Con questo rigore. Seguiamo questo rigore. Avviciniamo magari un po' all'area dove dovrà essere battuto. Parte direttamente Schiattarella. Edifino sigla il decimo gol. Sesto personale. 10 a 1. Si riparte da centro campo con il PLP White. Ormai un po' scoraggiato. Che sbagliano anche passaggi elementari in questo frangente. Ugo Potenza il PLP White ancora a caccia di gol. Dario Musella ospite d'eccezione qui al cuore un pompero. Ospite qui al Maracanite. Esposito. Buono il fraseggio. Tenta anche la magia. La trova. Scarica su Daria. Parte lungo la di destra spiondata da centro campo. Arriva anche l'undicesimo. Quando la serata deve andare dritta va dritta. Purtroppo per il PLP White stavolta l'FC a Bullet è davvero inarrestabile. Undicesimo gol siglato dalla squadra. Questo siglato da Daria. Schiattarella va a recuperare una buona palla a centro campo. Hanno ancora gli occhi della tigre l'FC a Bullet nonostante il vantaggio di 11 a 1. Si invola il giocatore il PLP White. Poi Daria può far ripartire. Scarica dietro per Ugo Potenza. Ugo Potenza serve nello spazio. Livio Barone il PLP White recuperano una buona palla a centro campo. Possono far ripartire la squadra nulla da fare. Esposito cinico getta la palla il pallo laterale. Luca Ungaro un pazzoletto di terra cerca di passare il PLP White poi si complica un po' la vita scarica dietro nulla da fare difficile superare il centro campo se non con lanci lunghi che sono in proficui però pallo laterale per l'FC a bullet Ugo Potenza Lautiro controlla la palla guarda in percussione scarica su Ugo Potenza ancora Prateria per lui lungo l'altro di sinistra cerca di servire qualcuno al centro non c'è nessuno però quindi tempo corrige ancora un po' scarica dietro per Lautiro ancora nello spazio per schiattare la bella Lidea peccato per la deviazione ancora Daria tutta schiacciata in avanti Ungaro trova il tunnel suo esposito ancora Ungaro può prendere per mano la squadra calcia da lontano il portiere non si fa trovare impreparato plastica parata Daria scarica su Ugo Potenza messa davvero bene in campo stasera l'FC a bulletto Ugo Potenza scarica dietro ancora per il portiere cerca di perdere un po' di tempo col possesso palla Daria nello spazio per schiattare troppo lunga la palla chiudiamo qui le riprese per il risultato finale www.porompompero.it